Benvenuti a tutti su Fallastra Armi Rare, siamo qui per cercare un'arma abbastanza rara chiamata fine del contrabbandiere e si può trovare facilmente entrando nella camera di Lion's Pride alla cittadella e dalla sua cassaforte da muro. Allora, se avete l'arambilità scasso a 100 vi sarà semplice, dovrete solamente scassinare questa cassaforte, se no potrete usare i doni. Lo sto facendo io. La prima cosa vi troverò un coltello da combattimento da queste parti qui, che possiamo fare andare anche nella nostra città. Poi, passare insieme il comando trovabile l'arma, diventare dalla cassaforte e, come è allenato, si vede il contrabbandiere aggiunto. Insieme dovresti anche trovare delle munizioni della cassaforte. 50 celli di energia. Quindi, ecco qui, fine del contrabbandiere. La versione della pistola laser potenziata, con, se si ha 35 più o meno di armi energia, ha un 13 d'attacco, tutta potenziata, perché non si troverà la potenziata al massimo. Un'arma molto semplice, abbastanza rara, ma non tanto forte. Per oggi è tutto da Fallout 3 Arminare. Grazie. Grazie. Grazie.